Assessore Giuseppe Speranza si avvicina il ponte di Ogni Santi, come sarà regolamentato l'accesso al cimitero? Dal 31 ottobre al 2 novembre gli orari di apertura saranno dalle 7 alle 17 di pomeriggio. Un momento molto atteso dalla città perché a Torre, come anche in altri luoghi, ma a Torre in particolar modo, è prevalente il culto dei defunti. Sono giornate che tante persone rientrano anche a Torre del Greco per visitare i loro cari. Per quanto riguarda le norme legate al Covid? Si consentirà l'accesso al cimitero con tutte le misure dovute. Abbiamo ipotizzato un senso di marcia anche all'interno del cimitero, mi riferisco all'ingresso e alle uscite. Certo non possiamo condizionare il percorso delle persone che si devono regare alle tombe, però un certo ordine si è tentato di dare. Invece per quanto riguarda la viabilità della zona? La viabilità, per quanto riguarda la viabilità, è come gli altri anni. Praticamente Viale Campania, che già ha un suo senso di marcia, via del cimitero sarà completamente chiusa al traffico perché bisogna consentire il traffico pedonale, soprattutto per la sicurezza di chi si rega al cimitero in quei momenti. Riguardo all'organizzazione interna, già da qualche settimana ho chiesto agli uffici dell'Igiene Urmana di raddoppiare il servizio dei bidoncini per la raccolta dei rifiuti all'interno del cimitero. Colgo l'occasione per fare appello ai cittadini e ai visitatori di utilizzare i bidoncini presenti all'interno e di cercare di mantenere possibilmente un po' di ordine all'interno anche della casa eterna. Per quanto riguarda invece la pulizia e eventuali interventi di restyling, come troveranno quest'anno il cimitero, i cittadini d'Ore del Greco? Sicuramente troveranno un cimitero più pulito, più percorribile, sicuramente troveranno degli spazi che un tempo erano occupati da tombe, oggi abbiamo dei marciapiti più percorribili, più ampi e anche più agevoli. Invece per quanto riguarda progetti di ampliamento dei loculi nicchiari? Sono già iniziati i lavori nella parte a destra dell'ingresso principale per l'ampliamento del cimitero dove nasceranno nuovi loculi, nuove urne cinerarie e dei monumenti a due o tre livelli per chi ne volesse fare domande e richiesta. Questa cosa che avverrà, spero, nell'immediato inizio dell'anno prossimo possiamo già provvedere a un bando pubblico per l'assegnazione di eventuali altri loculi.